Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Paolo Bonolis si è aperto in un'intervista al Corriere della Sera, raccontando alcuni dettagli della sua vita privata. Tra i vari argomenti affrontati ha parlato della separazione dalla moglie Sonia Bruganelli, rivelando di averla subita e sofferta. Non è stato un periodo facile, ma dopo un anno dall'addio si sente bene. Il conduttore ha ammesso decisione presa o subita? L'ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più? Che provi ciò che non sente più? Che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto. Se mi sono chiesto se e cosa ho sbagliato con Sonia, certo. E di sicuro lei avrà fatto lo stesso. Nonostante abbia sofferto per la fine del matrimonio Paolo Bonolis oggi si sente bene. Ha elaborato la separazione ed è felicemente single. Ha dichiarato sto benissimo così. Sono circondato da amici, ho cinque figli, due nipoti e un terzo in arrivo a luglio. Se capita, capita. E se non capita, come si dice a Roma, pazienza. Bonolis ha dimostrato di aver superato il momento difficile della separazione e di essere sereno nella sua attuale situazione. La sua positività e la sua gratitudine per ciò che ha intorno traspare dalle sue parole, mostrando una nuova fase della sua vita.